Ciao a tutti amici miei, ben ritrovati a Jumpy. Ripensando al derby, allora a mente un po' più fredda, io dico questo, perché quando sei ovviamente a caldo, dici e pensi delle cose, quando poi sei più a mente lucida, come si dice, a mente fredda, a volte puoi anche cambiare idea. Certo non cambiare idea sul fatto che se c'era una squadra che doveva vincere, quella era il Genoa, perché comunque loro alla fine si sono resi più pericolosi di noi, centrando la porta. Però devo dire anche una cosa, che onestamente non è che proprio ci abbiano schiacciato totalmente, cioè nel senso che alla fine hanno fatto tre tiri in porta, tre tiri in porta. Quello di Romulo, dove è stato bravo Udero, poi quello di Piontek, e l'ultimo di Quame, dove sempre Udero è stato... Quelli sono stati tre tiri in porta, poi non è che abbia fatto chissà che cosa, bisogna dire questo. Certo è che non sono contento della partita che ha fatto la Samp, questo non sono, assolutamente non sono contento, perché io voglio vedere una Samp più combattiva, più reattiva, voglio vedere comunque più azioni da gol, più tiri in porta, quello senz'altro. Alla fine però, diciamo che la Samp anche, alla fine prima, una volta con Quagliarella, un'altra volta con Youngton, hanno poi tirato in porta, però senza mai azzeccare la porta. Cioè alla fine la differenza è stata la precisione nei loro piedi. e poi la differenza è che per largo tempo il Genoa comunque ha avuto, diciamo, la partita più in pugno. La Sampa invece è il primo quarto d'ora e una parte del secondo tempo. Però devo dire che comunque io non faccio drammi assolutamente, perché comunque ormai è sulla bocca di tutti, ormai lo sanno tutti, che comunque avendo sempre Defrel in bilico tra lo star bene e lo star male, quasi sempre male, puntando solo sul buon vecchio Fabio Quagliarella, non è che puoi pretendere e fare tanta strada. Caprari purtroppo non riesce a essere mai decisivo e il nostro giovane Kovnashki pare che comunque abbia parlato con Giampaolo e quindi ci sarà una sua cessione. Quindi, visto che ci sarà una sua cessione, penso già a gennaio, adesso non so con quale formula, se poi sarà col prestito o no, questo non lo so, però sicuramente una punta arriverà. Ora, che punta arriverà? Non lo so. Perché quando sei nel mercato estivo, hai più tempo ed è più facile comunque cercare giocatori, invece quando sei a gennaio, come dire, ti devi un po' arrangiare e trovi quel che trovi. I dinomi attualmente ancora non se ne fanno. Non faccio neanche drammi su Giampaolo, perché è vero che io molte volte gli ho dato addosso, nel senso che, ma senza mai per forza criticarlo, è una cosa che comunque secondo me è una sua mancanza, quella di giocare sempre con lo stesso modulo. Però, anche se lui adotta sempre lo stesso modulo, diciamo che comunque con la rosa attuale della Samp, non è che forse si può fare diversamente. Quello che è l'input a Giampaolo è adesso, ormai i giovani che abbiamo preso, comunque i nuovi acquisti di questo mercato, e li abbiamo visti tutti, tranne questo Tavares, che onestamente rimane ancora un mistero. Io vorrei proprio vederlo, perché Tavares, in teoria, sarebbe il sostituto naturale di Murru. E onestamente Murru, le prime partite, ha fatto bene, ultimamente mi sembra che stia ritornando sui livelli dell'anno scorso, che non erano buoni. Quindi sicuramente questa è una cosa da non sottovalutare. Infatti, penso che la Samp stava guardando anche qualche terzino. Niente, al momento quindi io non darei troppo addosso alla squadra. Adesso abbiamo la partita sabato sera, speriamo bene in questa partita contro il Bologna, che purtroppo sarà su Dazon, e io preferisco sempre più su Sky. Quella è una partita assolutamente da non sbagliare, bisogna vincere, quindi appoggiamo i ragazzi in tutto per tutto, la squadra, appoggiamo il mister e tutta quanta la società. noi vi siamo vicini, crediamo comunque nel vostro lavoro, anche perché comunque attualmente la classifica è ancora corta, è ancora corta e tutto può cambiare. Con i tre punti tutto può cambiare. Il Parma, che talmente sta facendo bene, comunque è distante solo quattro punti. Quindi la Roma è a tre punti. Non facciamo drammi, vediamo come andrà sabato e sicuramente dopo sabato potremo dedurre qualcos'altro da questa situazione, che onestamente è una situazione difficile. Detto questo, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!